bentornati in questo spazio libri di radio radicale oggi questo in questa giornata abbiamo ospite diciamo una una gradita sorpresa e un gradito arrivo che è christophe haramsa buongiorno grazie buongiorno benvenuti ben trovati i nostri ascoltatori i nostri anche in qualche modo militanti radicali hanno sicuramente si ricorderanno sicuramente dell'ex monsignor haramsa in quel famoso coming out avvenuto nell'ottobre nel 2015 e diciamo oggi presenta il libro che esce il 30 per rizzoli la prima pietra io prete gay e la mia ribellione all'ipocrisia della chiesa un libro che in qualche modo era già stato anticipato proprio in quella sede un libro che è una riflessione un po tutto tondo sia su un percorso esistenziale su un percorso biografico che su un percorso di di fede un percorso vocazionale un percorso che poi ti ha portato a rivestire anche degli incarichi importanti all'interno del vaticano io però farei un passo indietro perché il libro in qualche modo si apre anche con un ritratto di te al ritroso nel tempo quindi di quando in qualche modo eri ragazzo eri giovane quindi del tuo mondo familiare del tuo mondo sociale in cui qualche modo la tua storia la tua vocazione anche diciamo si è sviluppata ecco ci vuoi raccontare un po la tua polonia la tua infanzia il tuo la tua famiglia anche che poi anche al centro di un ben ritratto all'interno del libro innanzitutto grazie grazie per questa presentazione ma correggere una cosa io non mi identifico più con nessun ex in realtà è quell'ex monsignore mai non ha dato importanza ai titoli è sempre i miei anche fedeli che servivo ero preoccupato che per favore non create quel muro di monsignori e altri colori vari che ci distinguono e no sono cristoforo don cristoforo per voi e questo rimango per tutta la vita qui non c'è un ex cioè io sono prete anche se sospeso ma ma sono al servizio della gente anche in quell'atto sono al servizio della mia chiesa al servizio della mia comunità così come mi ordina la coscienza così come mi richiede la riflessione la libertà di pensiero e di amore è vero che tu hai ragione tutto tutto inizia nell'infanzia tutto inizia nelle nostre origini io sono un polacco sono chiaramente polacco ma in realtà questo non esclude che mi sento identificato anche con le altre nazioni che a un certo punto quasi per adozione sono diventate mie prima la svizzera io mi sentivo veramente uno svizzero e poi per la gran parte della mia vita e forse la maggior parte della mia vita io mi sono sentito italiano ma pienamente italiano con tutte le gioie italiane e con tutti i drammi e problemi italiani e ebbene oggi oggi sono in catalonia e vivo una radicale un radicale processo di di affermazione della propria identità di una nazione fantastica che quella catalana e che lotta per affermare se stessa lotta affermare la propria identità come stato lotta affermare questo è credo un caso molto caro a ascoltatori della radio radicale e lotta affermare il diritto di autodeterminazione il diritto umano di autodeterminazione di una nazione e torniamo dunque alla mia nazione di origine che però non esclude le altre non esclude questo e questa apertura cioè io io non sopporto eh le xenofobie chiusure non sopporto eh quel quei primitivi eh particolarismi di un contesto che non riescono aprire l'occhio all'altro e capirlo forse in parte è presente in ogni nazione questo pericolo nella mia nazione è presente ed è ed è un'eredità di una certa formazione cattolica di una certa formazione che ufficialmente dovrebbe essere universale aperta a tutti ma in realtà ci rinchiude e tronca il il dialogo con altri io amo mia patria però certo io ho vissuto una patria che che non fu patria che fu sotto sotto un regime in quel tempo e anche se io mai non ho vissuto un un vero duro regime di un sistema e qui non importa se se è di questo colore di altro colore la mia chiesa molte volte ha condannato marxismo fortemente ma credo che troppo poco condanna gli altri estremi gli altri colori e nello stesso tempo e molte volte è troppo poco radicale nel senso evangelico cioè io questo ho vissuto in polonia in polonia ho vissuto un particolare cattolicesimo e che che molte volte ci chiude agli altri e questo di questo ero imbevuto nella mia gioventù e lo vedo oggi nella polonia e lo vedo vedo come prosegue come si sviluppa purtroppo nella polonia c'è una c'è una chiusura che addirittura ha preso forma politica di un governo che confessionale che politiche politicamente cattolico si presenta come unico governo cattolico ed è il il governo che si serve della chiesa dunque io nella mia infanzia credo che ho vissuto anche un'esperienza di una certa confusione tra la religione o uso della religione della fede della spiritualità della del cattolicesimo altri scoppi molto umani e qualche volta anche mediocre e da una parte io porto nel cuore un ricordo straordinario di una chiesa che mi ha formato in tutta la mia gioventù infanzia che ha vinto il comunismo nella chiesa che che ha riporta che ha aiutato a riportare la democrazia la libertà ma dall'altra parte porta dentro nel cuore un ricordo di una chiesa che in realtà era ugualmente chiusa come molti sistemi che essa stessa criticava chiusa agli altri e chiusa anche al proprio interno a uno dinamico sviluppo dell'umanità della della comprensione della dignità e dei diritti civili e umani degli altri e una chiesa dunque e che molte volte ha usato o quasi sostituito cosificato la grandezza di dio che nessuno non può contenere ma l'ho usato come qualcosa di cui si serve per qualche volta colpire l'altro questo purtroppo non è solo ricordo della mia infanzia di cui io ovviamente mi rendevo conto con gli anni ma questo anche il presente della chiesa questo è in molti paesi questa è la vera sofferenza delle società dove cristianesimo invece di essere all'avanguardia del dibattito sociale all'avanguardia della coscienza dell'umanità del di quel dinamico progresso che un dono di dio in cui viviamo e cristianesimo esattamente un elemento che blocca il dibattito ma non lo blocca con razionali pensati argomenti entrando in un dialogo rispettoso oggettivo blocca il dialogo stesso neanche non entra nel dialogo o argomenti che porta non sono neanche verificati a livello di confronto con la scienza con l'esperienza umana e questo in vari campi non penso solo ai diritti umani e civili io quasi molte volte cioè diritti civili che per me sono diritti umani ma questo nel rapporto con le scienze nel rapporto con la medicina questo nel in quel campo affascinante così misterioso dell'inizio della fine della nostra vita su cui che cosa sai niente non sappiamo veramente pur avendo biblioteche intere di 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 studi e la chiesa però davanti a quel momento più misterioso dell'inizio della vita e della fine della vita che sfugge a noi perché siamo solo umani mi viene con un'arroganza e propotenza per imporre una sua visione quando invece dovrebbe essere più prudente quando dovrebbe essere più silenziosa più capace di comprendere il mistero della persona e la sua ricerca di anche affrontare come comunità umana come società come stati quel bene comune che molte volte anche misterioso e che deve accettare il mistero il mistero che per me anche mistero della coscienza che so io del dell'inizio della fine della vita che so io dell'amore degli altri eterosessuali omosessuali semmai non ho sperimentato quell'amore come come nel caso della della gerarchia cattolica e dunque io della mia infanzia porto un ricordo della chiesa all'avanguardia di una lotta di una chiesa che sta accanto della nazione che si identifica con la nazione ma anche una chiesa un po troppo prepotente questo abbiamo vissuto nella 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 polonia nella democrazia non ci vuole una prepotenza delle chiese delle comunità religiose perché democrazia e ha bisogno di ascoltare tutti ma non può essere derubata da una sola forza o in o dominata da una sola visione perché così e così entriamo nella dittatura dell'ideologia di propaganda in questo io ammiro molto i radicali cioè io io nei nei radicali vedo il radicalismo che anche mio evangelico e qui devo dire sa che nella mia esperienza ma non nell'infanzia quando ero prete e molti molti dei miei colleghi mi dicevano che ma di nascosto io la radio che ascolto è quella radicale e sai che sono d'accordo con loro ma loro si forse lo dicono in maniera radicale ma ma ciò che dicono è vero e quindi una una proprio visto se ho diciamo parlando sia di polonia e ricordiamo che diciamo è una delle nazioni come voi anche ricordato tu dove diciamo esiste un governo molto forte a tratti oggi si diciamo in cui diciamo delle tra cui per esempio la legge sull'aborto è stata è stata abrogata ecco invece non ancora però stiamo lottando ma io qui devo devo fare una piccola correzione però aspetta ti faccio una domanda su perché tu hai diciamo hai fatto diciamo all'interno del libro un ritratto sia su di te sul tuo paese e sui tuoi paesi che fondamentalmente hai toccato europei esatto la vocazione universale della chiesa poi insomma l'hai un po' percorsa su questi temi per esempio sulle unioni civili tu ovviamente ti eri insomma dichiarato soprattutto in Italia che il dibattito parlamentare si è concluso qualche settimana fa ecco ma sugli altri temi etici che sono di stringente attualità come la maternità surrogata l'aborto il fine vita l'eutanasia tu come la pensi in questo senso come cattolico fedele al vangelo cioè cattolico che non ha paura dello sviluppo della scienza non ha paura del progresso dell'umanità non ha paura delle nuove conquiste e delle nuove sfide dell'umanità maternità surrogata è un dono è un dono evangelico è una scoperta dell'umanità è una nuova sfida nel comprendere l'umanità nell'ottica del dono del dono molto esigente del dono così intimo del del dono della vita stessa io io sono molto sofferente davanti alla alla chiusura a qualsiasi dibattito da parte della mia chiesa perché chiusura è ideologica però sulla maternità surrogata ci sono anche le femministe un parte del movimento femminista che comunque c'è una convenzione internazionale di parigi insomma sulla maternità surrogata comunque diciamo i dubbi sono come dire sono un po' trasversali da questo punto di vista ma certo perché tema nuovo esatto ma anche diciamo la parte economica di retribuzione della gestante insomma sono tutte quante cose che questo è un altro problema no no che un che una cosa essenzialmente positiva che un dono può anche essere usato a fini di un male ma questo riguarda ogni realtà umana e per questo ci sono le leggi cioè per questo è la gestione del bene comune a livello internazionale e statale a livello della comunità umana proprio per evitare che un bene non diventi un male e qui gli aspetti finanziari esattamente devono essere assolutamente gestiti nell'ottica di di etica di quel bene comune ma sarebbe sarebbe così guardi molte molte cose possono essere usate ai fini cattivi dunque le vietiamo e così eliminiamo il problema ma non è inumano questo è contro la contro la contro la libertà e la dignità della persona e anche della scienza e anche e anche di quel sviluppo dell'umanità che per me come credente essenzialmente dono di dio io penso un'altra cosa che qui non è neanche problema di un gruppo di femministe che hanno diritto di esprimere loro parere e neanche problema di una chiesa che ha diritto a esprimere la propria visione ma razionale la ragione è il criterio anche per la religione perché se no cominciamo a costruire delle visioni settarie con le quali colpiamo gli altri e imponiamo agli altri delle ideologie insopportabili adesso noi in chiesa cattolica siamo a questo livello di una chiusura radicale a qualsiasi dialogo che in realtà ne avevamo una una formula quasi di intelligibilità con cui ci siamo nascosti valori non negoziabili basta non negoziamo con essi ma qui non si tratta di negoziare qui si tratta di parlare come persone umane qui si tratta di rispettare la dignità dell'umanità che mi sta davanti e che non deve essere credente o può essere credente diversamente e che cerca come io che credente sono cerca il senso della vita quel comune senso della vita che io come credente non posso imporre a nessuno che io devo scrutare discernere prudentemente e proprio come faceva gesù proprio come come faceva il mio ma come ha fatto dio stesso nel nella sua incarnazione dunque che il dibattito ci deve essere questo è fuori dubbio ma un dibattito rispettoso razionale e aperto all'altro ad ascoltare l'altro a comprendere l'altro un dibattito non pregiudicato non mosso per stereotipi e sa che problema vedo io noi siamo paralizzati dalla paura gli sviluppi moderni sono così veloci la mentalità delle persone oggi cambia dicono gli studi ogni cinque anni e la chiesa si è sveliata o no? non si è sveliata cioè si è accorta che noi non riusciamo a seguire tutto questo una volta per gli sviluppi epocali avevamo duecento anni per aggiustarci per confrontarci magari mettevamo sull'indice dei libri proibiti un'opera per trecento anni e così ci davamo tempo oggi gli sviluppi della scienza sono così veloci lei pensi alla transessualità ogni giorno ogni giorno abbiamo uno sviluppo continuo di coscienza dell'umanità su quella sana orientazione sessuale sana identità che deve essere gestita come identità della persona e con la dignità e con i diritti di queste persone e con il dovere della società di assistere queste persone proprio nel loro responsabile umano e direi anche costruttivo buon percorso che che in un certo senso le chiede a loro perdono per secoli di stigmatizzazione e dove deve fare velocemente e la mia chiesa è così spaventata così incapace di entrare in quel dialogo così incapace di tenere alla gara i tempi del dibattito che come diceva Cardinal Martini siamo siamo anni luce di ritardi ecco proprio facendo un passo indietro ritornando un po' al libro la prima pietra la chiamata ogni sacerdote ogni ogni persona che entra in seminario ogni diciamo futuro sacerdote insomma riceve una chiamata una scelta vocazionale che insomma forse un po' più per gli addetti ai lavori diciamo comprende un percorso di discernimento di in qualche modo anche di diciamo non solo sposare l'idea del diciamo di una vocazione che è per tutta la vita quindi tu sei sacerdote per sempre quello che quello che dicevamo prima ma anche diciamo un'idea che si sposa con alcuni pilastri sul quale si basa il sacerdozio quando tu sei entrato in seminario perché oggi diciamo diciamo le affermazioni che che diciamo lo chiamerei una sorta di secondo discernimento insomma che forse hai fatto nell'arco della tua vita però le dichiarazioni di oggi ovviamente non solo stridono con l'impianto storico e secolare della chiesa ma stridono anche con alcune cose che tu stesso hai scritto nell'arco degli anni sulle ragioni teologiche del celibato su diciamo tu affermi che il celibato non va contro un'autoromana che senza una forte vita spirituale non c'è celibato insomma diciamo hai fatto anche un libro diciamo nel 2011 mi pare con la casa di trice L10 di Torino una casa di trice molto legata ai salesiani in cui diciamo c'era questo libro in difesa del celibato che tra l'altro gira anche molto all'interno degli ambienti chiesa siccome una ha molto diciamo ecco ha molto successo un'altra insomma hai anche fornito una sintesi del pensiero di Paolo VI sempre in merito al celibato ecco e diciamo che da in qualche modo da persona attenta come va il mondo ti dico che che forse più che l'omosessualità la cosa che in qualche modo ha fatto più scandalo forse è stata proprio l'infrazione di quel dono di diciamo del celibato che comunque il ministro sacerdote deve avere e la cosa che ti chiedo è insomma il primo cioè di raccontarci un po' il primo discernimento quindi quando sei entrato in seminario e il secondo discernimento cioè qual è stato il momento di rottura tu lo racconti a fasi anche un po' diciamo la scoperta del diciamo del tuo del tuo vero io della tua vera identità e anche in qualche modo forse di ritornare diciamo io ho un'opinione sulla tua storia che a mio avviso non esiste mai nessuna storia sbagliata esistono magari delle scelte che si fanno in maniera errata e forse è stata errata la prima scelta e non la seconda o forse sono tutte e due sono tutte e due giuste allora ecco raccontaci un po' diciamo allora convincimi che la prima scelta non è stata errada no prima di tutto quella quel concetto che hai usato che è importante quei pilastri legati al sacerdozio su quali uno fa il discernimento quali sono quei pilastri? beh innanzitutto si parte dai voti no assolutamente no dall'obbedienza no 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 si parte dalla fede in Dio vabbè quello vabbè diciamo quello lo davo come background ah no ah no il sacerdote non ha fede in Dio insomma è un po' come un salumiere vegano insomma sa quanti sacerdoti ci sono senza fede in Dio? no no ma questo infatti è un problema proprio secondo me no il problema è proprio all'entrata delle parrocchie e alle seminari allora no soprattutto il sacerdozio diocesano i pilastri non sono i voti voti prendono religiosi un religioso prende i voti e quali sono questi voti? la castità la povertà l'obbedienza ma questi non sono voti dei preti secolari dei diocesani cioè io non sono io non sono domenicano gesuita dunque ciò che io parlo di essenziali essenziali teologicamente evangelicamente pilastri essenziali non discipline della chiesa ciò che è codice della chiesa cattolica a un certo punto ha messo come si mettono leggi in uno stato che mai non saranno perfette nessuna legge non è perfetta perché nessun uomo non è perfetto dunque anche queste leggi canoniche che possiamo dire sono sì coordinate con le quali devi affrontare devi confrontarti e discernere ma prima di tutto io devo confrontarmi con i pilastri necessari ad essere sacerdote di Dio allora è fede in Dio è fede nell'uomo nell'umanità è trasparenza totale trasparenza è verità sì ma verità è che non è solo una verità imposta a cui io formalisticamente comincio a dare la mia faccia facendo predicatore è una verità che deve essere vissuta e della fede e conoscenza di Dio e della fede e conoscenza nell'uomo e trasparenza e poi arrivano tutte le leggi della chiesa che per esempio c'è l'obbedienza al vescovo ma quella obbedienza è cieca però il cenipado è un tema affondante del sacerdozzo no 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 mi dispiace no mi dispiace il cenipato può essere cambiato da un giorno all'altro dal papa grazie a Dio sì però fu lei stesso grazie a Dio il cenipato è una scelta diciamo e innanzitutto scrive dice è innanzitutto Cristo dice bene ad essere stato cialibro quindi un bello diretto e supremo e ideale io ho fatto un percorso di studio sul celibato e il testo che lei cita in realtà è un per così dire un semplice riassunto del pensiero di Paolo VI che io in quel tempo condividevo o almeno mi sforzavo di condividere perché anche già in quel momento cominciava il mio processo di riflessione ecco e questo leggevo già una ricerca totalmente vietata è ostinata dalla Chiesa sul celibato alla luce delle scienze umane celibato obbligatorio lei mi dice è collegato al sacerdozio ma no no perché abbiamo preti nell'Oriente che sono sposati con fili e quei preti sono pienamente preti o no e non non c'entrano nulla con celibato sono preti o no sono preti o no per la Chiesa Cattolica no sì loro sono cattolici ma attenzione Papa è stato in Armenia ultimo giorno e là ci sono preti cattolici sotto Papa Francesco ok orientali che sono sposati perché non appartengono al rito latino della Chiesa Cattolica appartengono a altri riti e altri riti della Chiesa questo è segno della pluralità del Cattolicesimo non sono ortodossi non sono fuori della Chiesa Cattolica sono pienamente nella Chiesa Cattolica abbiamo un grande teologo in Italia Basilio Petra che è un esperto straordinario del celibato e del del sacerdozio orientale sposato uxorato quei preti sono offesi quando uno dice che per cattolici loro non sono preti pienamente loro sono preti pienamente e non c'entrano nulla con celibato e per di più quei preti sono stati offesi in una maniera disumana da documento di Giovanni Paolo II pastore Davo Bobis dove lui forzava una interpretazione del celibato in direzione come se fosse volontà di Cristo legare sacerdozio cattolico di tutti e di ciascun sacerdote cattolico con obbligo di un celibato sine qua non non esiste questo Papa Francesco ha detto una frase liberatoria in principio del pontificato ma comunque celibato viene in decimo secolo del cristianesimo io proporrei in Italia di leggere qualche libro di Petra che è straordinario anche propongo anche di leggere il mio libro ma sul celibato l'ufficio stampa di Rizzoli che è trasalito ma sul celibato no no ma perché perché sono sono gli autori perseguitati dalla chiesa cattolica perseguitati dal mio ex ufficio ma perseguitati in maniera disumana in maniera quasi confidenziale di pressioni di tensioni di 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 influssi che bloccano lo studio la riflessione che non ti permettono di procedere nella tua carriera accademica sono sono proprio sistemi mafiosi di non permettere a svilupparsi del pensiero dei cattolici fantastico pensiero cristiano che deve essere in dialogo non fobico non pieno di paure con il mondo aperto esattamente a ascoltare qualsiasi radio perché in qualsiasi radio apprendo cosa significa umano cosa significa quel vario pinto mistero della natura umana che deve essere scoperta continuamente e su cui io come cattolico non ho una esclusività perché perché io quando ho cominciato ad aprire gli occhi al mondo ho imparato molto più da Marco Panella che da molti miei colleghi predicatori ho imparato molto più sulla passione per l'umano sulla tensione sul mistero dell'uomo sul dramma umano che non è così scontato uniforme unilaterale tutto detto tutto saputo ideologicamente già schematizzato solo ti sottometti e vai avanti e fai anche una bella carriera no umano è una scoperta ma questo mi ha detto Gesù e questo mi nega alla mia chiesa che ha già risposte su tutto quando invece la medicina comincia a scoprire che la procreazione non è così non è così meccanica che la procreazione è un mistero su cui si può addirittura aiutare uomo e la donna a dare la vita perché dare la vita significa coccolare i bambini ogni giorno e dopo permetterli di prendere la sua strada e non solo per caso a concepirlo dopo aver bevuto troppo no dare la vita e accompagnare uno giorno dopo l'altro dare la vita e permetterli di maturare e se penso alla mia infanzia è proprio forse questo che nella mia chiesa ha mancato e ha mancato e manca oggi quel apertura alla comprensione del umano che rimane sempre mistero sa che io nel il mio il mio corso all'università più a cui ero più affezionato portava il titolo il mistero della persona in realtà questo libro potrebbe anche chiamarsi così o prende il titolo sulla scia della verità o della libertà o della coscienza cioè le le questioni le questioni profondamente umane il libro prende prende quel titolo che mi piace molto di un'immagine perché voglio non colpire ma porre davanti agli occhi un'immagine che in un certo senso ti fa pensare e che ti permette anche di riscoprire vari significati perché il mistero ha vari significati il mistero non è unilaterale e per vari significati non posso restare solo a scoprirlo ho bisogno di lei di te di degli altri perché l'umano non sono io possessore dell'umano non sono io che ho imprigionato il senso delle cose no quel senso stiamo scoprendo continuamente e ho bisogno degli altri sì io ho bisogno dei lettori per il libro ma non solamente perché voglio che leggano perché io credo che libro creano i lettori certamente è una creazione dell'autore in quel senso una vera confessione liberazione ma il libro io condivido questa teoria moderna che è il lettore che crea il testo è il lettore che in realtà non è un passivo che legge ma è il lettore che effettivamente interpretando e mettendo se stesso nel testo e confrontandosi diventa l'autore del testo perché la sua ricezione è ciò che crea il testo altrimenti il testo è morto il testo non esiste esiste solamente grazie a quell'altro e per questo che io con il mio fantastico editore di Rizzoli tra paragrafi dei miei capitoli ho posto questa riga riga libera in ogni pagina quelle righe che vorrebbero essere come come un invito alla pausa fermati adesso perché qui quei paragrafi sono un po' come scatole cinesi che si riaprono continuamente riscoprendo nuovi lati vari nuovi orizzonti riprendendo la stessa dramma o questione o inquietudine o tensione o ricerca ma per favore fermati forse non leggere così tutto di un tratto per sapere di più e subito e chiude porta dentro la tua vita in mezzo a una vita molto forse lontana dalla tua perché un prete un gay un prete che esce dall'armadio cioè tutto un caso più che raro ma è un caso umano e in quel senso in realtà non è tan raro e non è tan lontano dalla tua vita perché anche tu vivi in mezzo alle maschere in mezzo agli schemi in mezzo alle istituzioni cioè in mezzo a quelle rigidità che ci mettono in continui schemi e continuamente devono essere rivisti radicalmente e provocatoriamente anche a questo serve la provocatorietà in realtà mio gesto era anche provocatorio io volevo che sia provocatorio deve essere provocatorio altrimenti non c'è discussione e soprattutto quando non c'è una seria oggettiva discussione oggettiva delle questioni importanti come succede da parte della mia chiesa ci vogliono gesti che rompono il ghiaccio che rompono il muro allora sì c'è una cosa c'è una cosa su cui né io né te possiamo sfuggire che è il tempo abbiamo già abbondantemente terminato abbiamo sforato per oltre 7 minuti però grazie per la pazienza mi piacerebbe che tu leggessi i primi due paragrafi per chiudere del diciamo del capitolo che sia quell'istante in cui c'è il futuro già te l'ho preparato è qui se vuoi già trovarlo pagina 301 così almeno diciamo non perdi l'abitudine dell'orazione su un testo scritto pubblico ma quel testo però leggi perché sennò poi finisce il tempo quel testo vuole essere non fare come pannella e quando si vedeva qua al tuo posto non schiodava più mi ricordo sì era un gran maestro prego a fine non sono libero perché poi dopo non è che leggi tutto il paragrafo che ti devo arginare leggo tutto il libro e così è audio book quando esci dalla tua prigione esteriore e interiore magari un giorno abbagliato di sole cammini lentamente gustando ogni passo come una conquista della tua vita quando sei fuori dalla prigione o come si preferisce dire oggi quando fai coming out uscendo allo scoperto dalla menzogna gusti il primo passo di qualcosa che fino a quel momento ti sembrava irraggiungibile sognavo da anni questa boccata d'aria nuova e non più marcia l'esperienza di un momento solo in cui potevo dire a me stesso sono libero bene bello sono stato bravo mi hai impegnato troppo questo è un frammento che è mio allora noi innanzitutto auguriamo felicità a Christophe a Ramsa che insomma diciamo se la merita tutta e lo ringraziamo per essere stato qui con noi su Radio Radicale e ringraziamo anche gli ascoltatori che e i telespettatori visto che abbiamo anche supporto audio e il supporto video a questa trasmissione e insomma è inutile dire che le porte di Radio Radicale sono aperte per te per diciamo la tua storia e le storie che comunque diciamo che continuerai a raccontare poi il rischio delle autobiografie è che si fermino insomma diciamo sei all'inizio insomma di qualcos'altro e quindi diciamo le nostre porte sono aperte grazie mille ricordiamo la prima pietra per Rizzoli e io ringrazio voi che ci avete ascoltato e buon proseguimento di trasmissione su Radio Radicale grazie a voi grazie a voi grazie a voi